Ciao sono Simone e ti do il benvenuto in questo nuovo appuntamento in cui analizzeremo la vita e le opere del grande artista italiano Franco Fontana, uno dei principi libri fotografi italiani contemporanei e sicuramente una figura di spicco nel panorama internazionale della fotografia a colori. Prima di iniziare a parlare di questo grande artista ti ricordo solo di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. Franco Fontana è nato ai inizi del 1930 in Italia a Modena, non si avvicina subito alla fotografia ma da giovane coltiva comunque la sua passione per il mondo artistico dedicandosi permanentemente alla pittura e alla grafica, esperienze che comunque sicuramente hanno influenzato il suo approccio alla fotografia. Nel 1961 compie un lungo viaggio negli Stati Uniti dove entra in contatto con le opere dei grandi fotografi del periodo e dove approfondisce anche la sua passione per la fotografia urbana. Questo viaggio sicuramente segna una svolta cruciale nella sua carriera spingendolo a dedicarsi completamente alla fotografia che fino a quel momento ha rappresentato per Fontana solo un grande hobby. Sin dai suoi primi scatti Fontana dimostra un talento innato per la composizione e per il colore, le sue fotografie infatti si caratterizzano per un uso audace e innovativo dei colori che creano immagini vibranti e molto strutturate e ricche di emozioni. Bisogna soprattutto pensare al periodo storico in cui ha iniziato a fotografare Fontana un periodo relativamente in bianco e nero dove quindi la fotografia dei colori era spesso considerata inferiore a quella monocromatica. Fontana appunto è stato un pioniere sotto questo aspetto e ha dimostrato il potenziale espressivo del colore e il suo ruolo centrale nell'arte fotografica. Il suo stile inoltre è caratterizzato da una forte attenzione alla geometria, alla luce e alla composizione. Le sue immagini spesso presentano infatti linee, forme geometriche e contrasti di colore che creano una dinamicità e un senso di armonia veramente enorme. I suoi scatti paesagistici, quelli urbani, le sue fotografie astratte o quelle di nudo, sono infatti caratterizzate da un approccio artistico che cerca di catturare la bellezza e l'essenza del soggetto in modo veramente unico e originale. Si tratta infatti di un artista molto poliedrico, è spesso conosciuto unicamente per le sue fotografie di paesaggio naturale realizzate soprattutto in Puglia e in Basilicata, dove ammette di tornare spesso anche solo alla ricerca di riposo e di ispirazione, quindi sono luoghi molto amati da questo artista, ma la ricerca artistica di Fontana non è legata esclusivamente a queste vaste fratterie o campi che ama fotografare, ma per esempio nel suo viaggio negli Stati Uniti si cimentato molto anche nel paesaggio metropolitano, quindi nel paesaggio urbano, sempre ovviamente con il suo stile di forme e colori, fotografie che sembrano quasi dei dipinti che rasentano quasi il cubismo. Un altro progetto di questo artista sempre legato al mondo urbano è quello realizzato sugli asfalti, quindi fotografie che ritraggono essenzialmente le geometrie della strada, realizzando degli scatti veramente molto particolari con dei soggetti veramente molto semplici. Ma la predilizione per la paesaggistica non impedisce comunque a Fontana di cimentarsi anche in altri stili fotografici. Ne ha un esempio la raccolta di nudi artistici chiamata swimming pool che come racconta l'artista è stata realizzata in un pomeriggio assolato in una piscina di un facoltoso italiano ed è sicuramente per questo che le fotografie sono realizzate in modo tale da non far riconoscere appunto i soggetti principali dello scatto. Quindi i corpi sono spesso spezzettati e geometricamente inseriti all'interno della composizione, in posizioni e situazioni più o meno naturali o anche molto surreali. Un altro lavoro molto interessante realizzato da Fontana è quello denominato presenza assenza dove praticamente questo artista gioca essenzialmente sul ruolo delle ombre realizzando anche in questo caso scatti veramente molto particolari. Negli anni 70 Fontana diventa uno dei primi fotografi italiani a ottenere riconoscimento a livello internazionale partecipando quindi a mosse importanti e ottenendo numerosi premi. Nel 1979 viene addirittura invitato al MoMA di New York a esporre le sue opere confermando quindi la sua affermazione nel panorama artistico mondiale, un'affermazione che ovviamente continua fino ad oggi. La sua influenza nel campo della fotografia si estende anche al campo della moda e dell'editoria, ha infatti collaborato con importanti riviste di moda e realizzato campagne pubblicitarie per prestigiosi marchi internazionali. La sua capacità di trasmettere un'energia visiva attraverso l'uso dei colori ha reso le sue immagini sicuramente molto riconoscibili e altamente apprezzate dal settore pubblicitario che si basa molto su questo elemento. Si tratta comunque di un artista che continua a esplorare nuove tecniche e tematiche, sperimentando appunto con la fotografia digitale, incorporando elementi di movimento e cinetica per esempio nelle sue opere, lavorando anche molto in post-produzione, una fase del processo fotografico che questo fotografo adora visto che comunque tende a ricreare delle vere e proprie opere d'arte, non delle sole fotografie. Anche questo suo impegno costante nel reinventare la sua parte artistica ha sicuramente mantenuto il suo lavoro attuale e rilevante nel panorama contemporaneo. Oltre alla sua carriera di fotografo Franco Fontana, anche un grande formatore, ha insegnato fotografia presso varie istituzioni, università italiane e internazionali, contribuendo così a formare le nuove generazioni di fotografie di paesaggio. Anche se abbiamo già accennato al suo stile, approfondiamolo un po' meglio perché questo artista è sicuramente noto per il suo stile fotografico distintivo e innovativo che ha sicuramente contribuito a definire il modo in cui il colore viene utilizzato in fotografia. Le sue fotografie presentano infatti una tavolozza di colori vivaci contro una età accese e contrastanti. Fontana sfrutta quindi il colore come mezzo espressivo per trasmettere emozioni e sensazioni, rendendo quindi le sue immagini piene di energia e vitalità. Inoltre, come ti ho detto in precedenza, le immagini di Fontana sono caratterizzate da una forte attenzione alla geometria e alla composizione e la sua abilità nel trovare appunto queste geometrie armoniose e bilanciate rende le sue immagini veramente molto accattivanti e interessanti a livello visivo. Ma nonostante tutti questi accorgiamenti, le fotografie di Fontana spesso presentano soggetti semplici e molto essenziali. Le sue composizioni sono pulite, prive di elementi superflui, permettendo così di concentrarsi sull'essenza del soggetto. Questa semplicità dà alle sue immagini un impatto visivo immediato e una chiarezza concettuale veramente fenomenale. Si tratta quindi secondo me di un artista molto particolare da approfondire soprattutto per appunto questi aspetti che utilizza nelle sue fotografie. Adesso come sempre prima di concludere ti lascio alcune grandi frasi di questo artista. Per me la fotografia non è mai stata una professione ed è a me continua realtà che dona qualità alla mia vita. Fotografo colore perché fortunatamente vedo colori. Il mio colore non è un'aggiunta cromatica bianco e nero ma diventa un modo diverso di vedere, essendomi liberato da quelle esigenze spettacolari che hanno caratterizzato la fotografia a colori, accettando il colore come un traguardo inevitabile nell'evoluzione della fotografia. Uso digitale perché offre un'economia e una rapidità di lavoro che mi permette di risparmiare tempo. Non ho mai accettato di firmare contratti, neppure con Vogue America, e c'è chi si venderebbe la nonna o la mamma pur di avere un contratto del genere. Non sono mai stato iscritto a club o circoli fotografici, se non al massimo per un anno, poi me ne sono andato. Sono stato sempre molto libero perché per me la fotografia è un pretesto. Il bianco e nero è arbitrario come fatto creativo. Parte già avvantaggiato, interpreta. Io scelto la fotografia a colori e il colore va interpretato. Il bianco e nero parte già interpretato. Il colore, dato che lo si vede, va reinterpretato. E' molto più difficile fare il colore che il bianco e nero. Non si cerca mai in realtà per quella che è, ma si cerca di reinventarla in un modo più ideale. I colori esistono. Io li rinterpreto. Come al solito spero che questo contenuto ti sia piaciuto. Nel caso lascia un like per supportarmi e ci vediamo nei prossimi appuntamenti.